Entro l'estate 2023 la città di Teramo avrà una nuova autostazione che passa dalla riqualificazione di Piazzale San Francesco. Questo grazie agli oltre 550 mila euro di fondi Masterplan, tua sarà il soggetto attuatore. L'intervento vedrà una riqualificazione sostanziale dell'edificio che oggi ospite il bar, la sala d'attesa e i servizi. Fa riferimento agli interventi del Masterplan di riqualificazione delle diverse autostazioni in Abruzzo. Uno degli interventi più importanti naturalmente è quello di Teramo dove ci sarà la riqualificazione di Piazzale San Francesco con lo stallo di 12 autobus, la presenza di servizi diffusi, barbi, gietteria, sale di aspetto che verranno alla fine del percorso svolto da tua che è soggetto attuatore riconsegnati al comune di Teramo che è proprietario dell'area e sostanzialmente verranno gestiti proprio dal comune. Il progetto disegna un nuovo profilo più funzionale, efficiente e decoroso dell'autostazione trasformando l'attuale sito in vero e proprio terminal dotato di tutte le installazioni che adesso sono proprie. Questa di Teramo sarà una delle migliori autostazioni perché prevederà delle soluzioni innovative. Mi viene in mente la ricarica per le barche, mi viene in mente la ricarica per le macchine e per i pullman elettrici, mi viene in mente tutta una viabilità all'interno del piazzale che elimina i pericoli che ci sono adesso. Adesso purtroppo il piazzale San Francesco è un piazzale che è autogestito, adesso si prevederanno degli ingressi controllati, ci saranno delle strutture che permetteranno anche di passare del tempo libero come un bar adeguato alle esigenze dei servizi igienici innovati. Quindi siamo una stazione al passo con i tempi, una stazione che consenta anche al cittadino, al visitatore che perviene a Teramo di poter trascorrere il tempo necessario in tranquillità.